Buonasera ragazzi, nottiksternay, attento del game 88x, non so parlare, è arrivata la nuova stagione di Fortnite, non so perché sto salendo verso, sono in cilessi, giapponese, non so niente, ho perso il fiato. Oggi siamo alla nuova stagione di Fortnite, ho già riscattato dei balli vecchi, tutto. Ho già fatto una partita, prima Kiri gli ho fatta, non so se calci quello, così. Basta, io sono sancato. Ho fatto il tempo di bacche, ho le bacche, non di di bacche, ho le bacche. No, non voglio blocchiare, fai il DJ. Questa è un po' più dolente i copi del canale. Sì, sì. Ma che bello. Sto gioco La canzone che gli inventai, che arma è questa? Ucchì la pompa stritta. Quanti danni fa? Buono. Sono provato ad andare lì, alla mia partita, e devo dire che è abbastanza bello. Ho già fatto l'evento, meglio ho visto. Devo dire che l'Epic Games si è interniata, nonostante il rivale della Voyang. Mi aspettavo qualcosa di più brutto. Sto stranamente, l'isola centrale, non è un'isola centrale, cioè quello che intendo che non è speciale. Ma aspetta, questo non è questo, non è bello. Mi devo ancora abbiantare con l'arco. Già, mi stai attaccato a tutto il primo. Hanno aggiunto delle medicosa, cioè medicine. Hanno cambiato praticamente tutte le armi principali, cioè non me lo aspettavo. Sento, è giusto qualche rumore. 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 Ok, qua lo uso come cecchino. Siamo già la seconda kill. Ma è vero della mia carriera in questa seconda, sì, cioè terzo capitolo. Io non sono un grande fan di Fortnite in realtà Voglio solo dire questo Prefisco più Minecraft Anche se la porto a me Non so che da PS è più facile registrare i video Che cos'è? Tenda Ah, forse sono una cosa che ho Non credo Non ho capito Ho preso un medikit Penso che si può portare qualcosa Sarebbe stato una cosa incredibile No, vabbè Ho spaccato un medikit, ma no Cioè, io dico, come si fa? Questa è Crocecovinci Forse l'ha andato qui Non sono sicuro, però Allora 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 Guardate Allora 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 Cebra ahia! sto morendo! didoo! ah ok! sto morendo se non si fosse capito no, avevo un po' di materiale che lato non so che cosa è questo sto solo che mi sono spaventato da morire quando ha fatto tutte queste cose la la la! sto confondendo! allora intanto mi cura ma la gomma non la voglio prendo questo se che lo uso come un'arma di scorte dai bende non so perchè sto usando in sacco le bende non so se faccio! sto faccio! non so se faccio! questo è quello che avevo trovato un altro band ho già lottato scavo qui scavo finalmente qualcosa di shield mi trovo di shieldeni sa stanno devo dire che questo sarà il mio nuovo pompo preferito da dove stanno andando ah 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 ecco lo sopevo io vabbè tanto ha visto la social zone ma dovrei farlo scoperto non lo so ok avevo un po' cosina ma non tanto dai sto procedendo per il maio siamo in 20 5 uccisioni fatta da una per l'altro è poco se faccio la victory alla mia seconda partita come ho detto già testata io risulto tenda no non gli ho aggiunto questo che un blocco sarà buono quant'è è un flopper non vale tenda non so quali soldi voglio capire utilità da tenda se vi posso cos'è qua gli stessi non ci credo non ci voglio non ci voglio credere lascio la band tanto il medikit l'altro non ci voglio vuoi un cinghiale vai veloce non voglio morire il campetto questo se muoge di tempesta io mi la guarda ok vai non mi sto ma sta non mi ti andrò questo è successo perché ho fatto questo in YouTube ha visto non mi fattato non mi fattato però è vero è vero Questa cosa da tenda è un filissimo Però sbrigati Penso che ce la faccio Perché le devi ricaricare ora? Dimmi che ce la faccio Ce la devo fare per youtube Dimmi di se Dai Fuoco Due Due di vita Potrei aver visto un player e la cosa non mi piace Cura, cura C'è grazie Non ho tanto la vita però Non ci posso fare niente Cosa? Mi hanno ucciso Vabbè Ma sto preparati dai Mi piace questo gioco Mi piace Mi piace Non compro minecraft Ma mi piace Mi piace Mi piace Mi piace Mi piace Basta Io mi piace Giuro che cerco di Come si chiama Organizzare una live con questo non rosa Per fare qui Ve lo giuro che ci provo Che poi si chiama No Mi sto confondendo con un altro discorso Devo fare Che ho fatto in un altro video Questa qua è buona Non come quello di prima Cioè Quello di prima che ho trovato Santuario Qui mi sono trovato benissimo Quindi Però siccome voglio esplorare la mappa Prova di andare lì Secondo me è conviana La stanutica Ma che bello Giocare con questo Tu quadrati Che solito Sto cogli di l'acqua Vabbè Ma non so io ancora di l'acqua Dovrei mi fermare Prima lo fassero Comunque morare da favore Se qualcuno sta mirando un altro Meglio scopo gli occhi Cioè A me sta accanto anche All'altro Hanno aggiunto Delle mie Non ci voglio credere Io non ci credo Cioè Perché ci dovrei credere? E' fan made Per forza Ok Cioè No Non ci credo Però voglio vedere C'è un'altra squadra Ma voglio vedere questo Vabbè Questa partita è andata Male però Stella Quindi c'è anche qui La copia delle stelle No Però io voglio No Adesso Non ci possiamo prendere Anche se non la voglio Ma Ne manca Non ci posso prendere Che potreste potreste stelle Dai Così non è giusto Ah C'è anche Sto Nudoso Lo invito Allora Bella ragazzi Adios Un attimo Sto cercando di chiudere